Bene signori, siamo arrivati alla fine di Ecomondo, dopo questa settimana molto intensa e ricca di partecipazione, ringraziando ovviamente tutte le persone che ci hanno visitato, dai nostri partner, dai nostri clienti, gli allestitori, dove abbiamo potuto illustrare a tutti loro quello che era l'offerta di VECO completa, dalla gamma leggera alla gamma pesante, in tutte le varie combinazioni disponibili, per andare incontro alla transizione energetica, quindi nelle versioni a biometano, nella versione pesante del veicolo elettrico, disponibile ovviamente per questo tipo di soluzione, nonché per la parte del veicolo daily, che anzi andando da questa parte potremo andare a vedere, quello che è sia la versione cabinata che la versione diciamo furgone, del veicolo pienamente elettrico che abbiamo a disposizione, parlando dell'elettrico ovviamente abbiamo tanta tecnologia nuova e ovviamente sarà fondamentale che i nostri clienti siano ovviamente pronti per poterlo utilizzare, ma per poterlo illustrare ai clienti ovviamente il nostro anello di unione è il venditore e quindi occupandomi di formazione è come una battuta che ogni tanto uso spesso, mi chiamo formato e quindi cosa potevo fare se non formazione, ai nostri venditori ci saranno tutte delle serie di attività importanti per andare a illustrare tutte le caratteristiche innovative di questi prodotti per poter andare sempre più incontro alle esigenze e quindi offrire il giusto prodotto al nostro cliente. Prodotto e servizi, perché tra i vari servizi non dimentichiamoci, è fondamentale quindi la parte che noi cerchiamo di offrire, quindi la parte della connettività per avere un veicolo sempre connesso, monitorato per l'ottimizzazione dei consumi. Per quanto riguarda il daily elettrico idem, abbiamo già nato prima, abbiamo la versione cabinato e la versione furgone, ma nella tecnologia dell'elettrico una caratteristica fondamentale che noi adesso andiamo a offrire ai nostri clienti è anche un nuovo metodo di vendita, il discorso del pagare per l'utilizzo, quello che si può denominare anche il pay per use, ecco che con l'offerta di Gate abbiamo la possibilità di offrire ai nostri clienti un veicolo che quanto più lo usi, quanto eventualmente paghi, ovviamente bilanciato per il loro utilizzo. Tutte queste cose ovviamente sono già disponibili, verrà ampliata la gamma, non ci fermeremo qui perché non voglio anticipare e svelare cose che arriveranno prossimamente, ma quello che davvero ci ha fatto molto piacere in questa settimana molto intensa, molto ricca, impegnativa ma con grossissime soddisfazioni, l'interesse che tutti i clienti e il settore interessato ha dimostrato in questa nostra offerta di prodotto. Detto ciò, più che ringraziare nuovamente la partecipazione e l'impegno da parte di tutti per andare incontro davvero a quello che sicuramente è il futuro e parlando come ultima chicca della disponibilità dell'elettrico c'è, ce l'abbiamo e l'avete potuto vedere e apprezzare, ma per la parte del veicolo a metano che effettivamente soprattutto la versione bio ci garantisce di poter offrire a tutti i nostri clienti dei veicoli performanti con dei consumi sicuramente ridotti, ma fondamentale la parte prioritaria è andare incontro alle esigenze dell'ambiente su cui tutti noi viviamo e che di conseguenza col biometano riusciamo a dare ai nostri clienti. Grazie a tutti!